Allora, eccoci qua. Pagelle, Napoli-Juventus, 5-1. Una disfatta clamorosa, non si prendeva da circa 30 anni 5 gol in campionato in Serie A, quindi capite bene che quella di ieri sera è stata una serata indimenticabile per i tifosi della Juventus. Cerchiamo di analizzare un po' meglio queste pagelle per i singoli e poi nel pomeriggio in realtà vorrei portare anche un brevissimo resoconto al punto di vista tattico perché poi c'è poco da mostrare in questi casi quando una squadra si dimostra così superiore a quell'altra, quindi fatemi sapere se volete anche il secondo contenuto, fatemelo capire con dei mi piace, dei commenti, aspetto di leggervi qui sotto insieme ovviamente alle vostre pagelle. Direi di iniziare da Massimiliano Allegri che secondo me è il principale colpevole di questa sconfitta. In questo momento cercheremo un po' di parlare a tratti, a grandi elementi, non nello specifico perché poi quello accadrà nel video che voglio portarvi oggi, però di principio credo che una sconfitta del genere nasca dal cambio che ha cercato di dare Allegri con Chiesa dal primo minuto al posto di McKennie, non perché io sia qui a dirvi che bisogna giocare con McKennie esterno, ma perché tante volte abbiamo analizzato la Juventus qui su YouTube e tante volte abbiamo detto che questa Juventus esplode nei secondi tempi. Lo abbiamo visto con la Lazio, lo abbiamo visto con l'Udinese, lo abbiamo visto con la Cremonesa, lo abbiamo visto con tante altre partite. Nei primi tempi solitamente gestiamo un po' di più, nel secondo tempo esplodiamo e tante volte ci siamo anche detti magari è per un discorso legato alla condizione fisica. Andare al San Paolo, a Maradona e cercare di cambiare questa cosa nella Juventus inserendo Chiesa al primo minuto, cercando di spingere, di ferire il San Paolo, il Napoli, perché se inserisci Chiesa per forza di cosa vuoi fare una partita in cui porti su il baricentro. Invece no, Chiesa vuoi fare comunque il quinto, letteralmente il quinto e allora la domanda è che cosa si voleva fare, perché tante volte si dice Allegri non dà un'identità alla squadra, non dà un gioco, ma Allegri vuole esattamente dare quello che vediamo. Allegri lavora ogni giorno affinché la Juventus possa trovare garanzie dal punto di vista difensivo. Questo è il calcio di Allegri, che può piacere o non piacere, ma quella è l'identità di Allegri. Allegri dà esattamente l'identità che vuole vedere nella squadra. Poi la partita la vinci, sul lungo in qualche modo la vince. Questo è quello che dà Allegri alle squadre. Ieri non ha funzionato. Non è che non ha funzionato, ieri è stato un disastro, proprio dal punto di vista della lettura della partita da parte di Massimiliano Allegri. Disastro. Perché allora non mi spiego la scelta di Chiesa dal primo minuto. Se dobbiamo fare una partita come i primi 30 minuti del primo tempo, non mi spiego Chiesa titolare. Poi andiamo sotto di 1, iniziamo a venire fuori. Abbiamo anche 10 minuti buoni. Troviamo anche il 2-1 perché comunque loro poi ci fanno un gol nel nostro momento migliore del primo tempo. Facciamo il 2-1 gli ultimi 5 minuti, spingiamo. Ma che senso ha? So che è strano da dire perché abbiamo sempre partito dal presupposto che stiamo commentando una squadra di Allegri e l'abbiamo sempre detto, il modo di vedere il calcio di Allegri è un po' particolare. Perché comunque l'allenatore di solito gioca per vincertela e basta senza pensare me la gioco solo negli ultimi minuti. È un po' quello che pensa un allenatore di una squadra provinciale quando va ad affrontare una squadra maggiore. Copro tutti gli spazi in modo da rendere difficile la vita al mio avversario. Poi anche se vado sotto di 1 cerco di tenere lo svantaggio di una sola differenza rete per cercare di trovare un gol nei minuti finali. La Juve di Allegri tante volte ha fatto questa partita, tante volte è andata bene, tante volte no. Ma mai così, mai così male. Perché qui c'è proprio un problema secondo me di principio. Che cosa volevamo fare? Qual era l'idea di Allegri? Se schieri quella formazione devi fare la partita. Non puoi chiedere a Chiesa di fare le diagonali come te le farebbe un quadrado. Non glielo puoi chiedere. Perché perdi ovviamente Chiesa dal punto di vista offensivo, che è una delle tue uniche armi, che fino adesso è stata l'arma in più della panchina che ti svoltava la gara. Forse la paura di Allegri era di non arrivare nemmeno a quel punto, di essere così inferiore al Napoli da rischiare di fare entrare Chiesa su una partita già decisa. Perché attenzione, qui il punto non è Allegri ha fatto giocare Chiesa e non doveva farlo. È che Allegri decide di far giocare Chiesa e decide di far giocare Chiesa posto in fortunio nel ruolo di esterno quinto di centrocampo. Allora la partita che va a preparare, a proporre contro il Napoli al San Paolo deve essere tutta differente. Tutta differente. Deve essere una squadra che cerca di gestire il pallino del gioco. O comunque che riparte in maniera efficace. Non siamo stati nessuna delle due. E probabilmente qua torna fuori anche il discorso che facevamo l'anno scorso durante le partite con il VRA o l'Inter allo Stadium. Se tu non le provi mai queste situazioni, quindi se tu sei una squadra molto più conservativa, non è che magicamente poi quando l'allenatore chiede di fare una partita diversa o uno spezzone di partita diversa la squadra risponde sempre presente. La squadra sa fare le cose se le prova. Se queste cose vengono provate, riprovate, riprovate in allenamento. Napoli ha dato questa impressione. È una squadra che conosceva a memoria i dettami dell'allenatore contro la Juventus che io non ho capito cosa volesse fare. Non è stata né carne né pesce. Perché quella di ieri sera non è la Juventus che abbiamo conosciuto nell'ultime otto. Ma attenzione, non perché sia qui a dirvi che le ultime otto dove abbiamo fatto 24 punti e non abbiamo mai subito gol, sono state le partite perfette. Perché tante volte a questo YouTube ci siamo ritrovati a commentare anche delle partite che non ci sono piaciute. Abbiamo detto che si è vinto quasi a fortuna, si è vinto per l'episodio, si è vinto per la giocata. Ma è quello. Ma non c'è stato nemmeno quel tipo di approccio che Allegri aveva dato alla squadra per arrivare a vincere quelle partite. E cioè compattezza difensiva, ordine e poi grinta nel momento in cui serve. Probabilmente la Juve si è sciolta un po' troppo presto, ha pescato troppo presto il cartellino imprevisti, non si immaginava di andare sotto così presto. Ma ragazzi mi affrontavamo un Napoli che doveva sapere che c'era questa possibilità ed era anche molto probabile andare sotto. Era molto probabile andare sotto. Però poi deve aver provato un piano, deve aver provato qualcosa per cercare di rivoltarla quella partita. Non è che se prendi gol da adesso alla fine dell'anno abbiamo perso perché non siamo abituati a prendere gol. Siamo abituati a non prenderlo e quindi quando lo prendiamo vinciamo, quando lo prendiamo vabbè la partita è finita. Ma ragazzi non funziona così. Poi al di là di quello io credo che il Napoli sia comunque più forte della Juve, ma lo pensavo prima, adesso lo penso a maggior ragione. Credo anche che comunque l'Aventus si abbia messo tanto del suo, con delle situazioni legate all'allenatore. Perché veramente, ribadisco, non ho capito quale fosse l'idea di Allegri. Mi piacerebbe anche sapere da parte sua come pensava di portare a casa un risultato diverso dalla sconfitta in questo modo. Chiedendo a Chiesa di abbassarsi così tanto e facendolo partire da subito tenendosi in panchina diversi giocatori. Vorrei chiederglielo. Poi ultimo, ma non meno importante, perché secondo me è una cosa molto importante, a me non è piaciuta la scelta di Allegri su Fagioli e su Miretti. Che non significa che con Fagioli e Miretti avremmo vinto. Però se questa Juventus da un po' di tempo a questa parte ha trovato stabilità, con un certo tipo di giocatori, non è che c'è la partita difficile e allora questi li tirano fuori perché si cagano adosso, perché sono più giovani. Non mi pare che tanti di quelli meno giovani in campo abbiano fatto meglio. Questo è un passo indietro, eh? Questo è un passo indietro. Perché se con l'Inter, con la Lazio, col PSG, mi ha visto un centrocampo con Locatelli, Rabiot e Fagioli funzionare, eh? Locatelli, Rabiot e Fagioli, mi lo riproponi ancora una volta dal primo minuto anche contro il Napoli. Magari Fagioli non stava bene. Allora abbiamo visto che tante volte se non gioca Fagioli gioca Miretti. Non perché i giovani, ah i giovani ci avrebbero fatto vincere la partita, non è quello. Però i giovani nei momenti difficili in questa stagione hanno dimostrato che anche più degli altri qualcosa te lo danno. Anche dal punto di vista della personalità. A me non è piaciuta questa cosa qui. Non mi è piaciuta. Perché non è che sono utili quando ci pare e basta. Sono utili sempre. Sono protagonisti della prima squadra, sono giocatori della prima squadra e valgono come quegli altri. Quindi i giocatori che ci hanno tolto delle situazioni ben peggiori rispetto a questa. Perché comunque la Juventus rimane abbastanza alta nella classifica di Serie A. Non vicino allo scudetto. Poteva entrare nella notte scudetto con una vittoria. Non sarebbe entrata nella notte scudetto con un pareggio. Tanto meno adesso che ha perso. Quindi però rimane nelle zone alte di Serie A. È una situazione ben migliore rispetto a quella che ci trovavamo prima della prima vittoria col Torino dopo la sconfitta col Milan a San Siro. Quindi ricominciamo a lavorare per... Però è ovvio che... Poi a un certo punto io sono molto pragmatico. Molto pragmatico. E vado a vedere la ciccia grossa per Massimiliano Allegri. E penso. Semplicemente. L'anno scorso è andata male. Io capisco che un anno possa andare male. Però quest'anno è partito peggio. Perché tutti si è già giocato la Champions e quello rimane qualcosa di indimenticabile che non si può cancellare. Se poi in campionato aggiungiamo che abbiamo fatto comunque delle altre figuracce. Che abbiamo fatto le figuracce. Che siamo in Europa League. Che abbiamo preso una battosta che non prende amanda 30 anni in campionato in uno scontro diretto. Mister qualcosa va rivisto. Mister qualcosa va modificato. Perché se no è sempre una serata storta. O i calciatori troppo scarsi. O il momento. Allora ci riproveremo. E nel calcio si può cancellare. Perché c'è già da rigiocare. E no. E perché vincano sempre gli stessi. Perché vincere o non vincere. C'è una cosa sottile che sembra sottile. Ma sottile non è. E noi non stiamo vincendo. E bisogna farsi delle domande. Perché se si vince in un modo. Anche se non è piacevole. Se tanti tifosi non lo condividono. Però poi il campo parla e vinci. Allora c'hai ragione te. Però se non vinci poi bisogna farsi delle domande. Bisogna chiedersi. Come posso arrivare a vincere? Perché questa squadra quando invece molla i cavalli e va in avanti? Come abbiamo fatto per 10-15 minuti nel primo tempo. Che è stato siccome molto equilibrato. Abbiamo fatto male al Napoli. Abbiamo messo in difficoltà al Napoli. Perché invece quando siamo tornati al voler comunque coprirci, contenere, siamo stati meno efficaci? Perché? Perché questa squadra è una squadra con dei giocatori che probabilmente non amano stare dietro. È una squadra con dei giocatori che amano andare anche in avanti. Però facciamogli andare in avanti. Perché poi non è che possiamo dire. Però noi 15 minuti del partito li abbiamo fatti insieme a Durant 90. Durant 90. E chi se ne frega se per 10 minuti. Che poi non è che hai messo sotto il Napoli in quei 10 minuti. Attenzione, non è che hai dominato sul Napoli. Ma sicuramente qualcosa hai fatto vedere. Le occasioni le hai create anche potenziali. Allora bisogna ragionarsi un po' su queste cose. Credo che l'Egri 3 se lo porti a casa tranquillamente ieri. Perché proprio in primis la partita l'ha persa lui. Non ho veramente capito cosa volesse fare. Se è scesni. Adesso andiamo un po' più veloci sui giocatori. Perché ci sono stati tanti errori tecnici, individuali. E quindi ne parleremo. Ma credo di aver già detto tanto sulla partita ieri. Se è scesni perché? Perché è un portiere che prende 5 gol. E comunque si prende 6. Secondo me ti dà anche un po' la sensazione di quella che è stata la partita. Grande reazione sul primo tiro di Quara in acrobazia. Poi Osimene lì. Non ci puoi fare niente. Sul secondo mi sembrava un pochino fuori tempo. In realtà non è stato così. È stato preso in controtempo. Aveva coperto il suo palo. E poi Quara la mette sull'altro. E ci puoi far poco. Tutti gli altri vede il pallone entrare perché facciamo dei disastri. Perché Bremer è da 3. Anche qui. Io non capisco perché se vedi un giocatore in difficoltà a un certo punto non opti per la sostituzione. Io a un certo punto ieri, ma ben prima del 5-1 del Napoli. Forse eravamo sul 3-1. Quindi appena preso il 3-1. L'avete visto nella reaction. Dico, oh mister, lo cambiamo. Mettiamo anche Rugani. Ma lo cambiamo. È completamente fuori dalla partita. Invece no, l'abbia lasciato. Altri 2-3 palloni regalati. Altri 2-3 errori. Altri 2 gol subitti. Bremer ha fatto degli errori individuali terrificanti. Terrificanti. Però forse la colpa è anche di chi ha permesso a Bremer di rimanere in campo per 90 minuti. Soprattutto dopo che veniva da un affaticamento. Quindi magari non era nemmeno pronto a livello fisico. Perché comunque in settimana non si era allenato completamente con i compagni. E già sei questo. Poi lo vedi in bambola, lo lasci lì. Quindi ora secondo me siamo anche un po' come si dice quando adori farti male. Non mi viene il termine. Masochisti. Siamo anche un po' masochisti. 4 ad Alexandro perché tante gestioni dei palloni. Io vorrei andare anche avanti in fretta perché Alexandro e Bremer sono stati disastrosi. Il migliore credo dietro dei tre sia stato Danilo. Che comunque si porta a casa 5 perché comunque vara al motorino e tante volte gli è andato via. Poi due o tre volte di carriera era fatto dei recuperi. Infatti ripeto, è il migliore dei tre dietro. Però se il migliore prende 5 ragazzi ci diamo anche un'idea di come siamo andati. Danilo dice che secondo lui non è stato un discorso mentale ma ci sono stati degli errori tecnici imbarazzanti. Secondo me la verità stanno nel mezzo perché c'è stato sì un'abbondanza di errori individuali che ha portato ai gol del Napoli perché comunque il Napoli secondo me ha fatto una bellissima partita però due o tre gol ce li siamo veramente fatti da soli quindi magari li avrebbe fatti comunque il Napoli però sulla ciccia grossa, su 5 gol, 3 e mi ha detto fateci gol per favore stendo il tappeto rosso quindi sì l'errore tecnico ma anche il fatto che arrivi a ripeterli così tante volte e che esci dalla partita poi diventa un discorso mentale per quanto mi riguarda oltre a un discorso di errori proprio di impostazione della partita di preparazione della partita, di lettura della gara da parte di Allegri quindi queste sono un po' secondo me due verità insieme non è solo un errore di testa non è solo un errore tecnico è un insieme delle due cose e la cosa che mi preoccupa è che ieri ho visto una Juve fare dei passi indietro dal punto di vista mentale cioè giocatori che si tantugnavano, si mandavano a quel paese robe che non si vedevano da prima di iniziare il ciclo in cui si era un po' compattato il tutto quindi attenzione eh perché questa partita non è finita potrebbe aver lasciato delle tossine all'interno della testa dei giocatori vediamo Chiesa è 5 e mezzo per ora che si ma che cosa vi devo dire cioè sul primo gol che subiamo Chiesa è l'ultimo uomo se guardate il replay c'è Shesny che prova a parare su Ozyman e Chiesa è di fianco a Shesny come altro io credo che che possa bastare questo come istantanea di questa partita Chiesa lo può fare il quinto eh Chiesa può giocare nel 3-5-2 Chiesa l'ha fatto a Firenze Chiesa l'ha fatto con Pirro andato in doppia cifra di gola e assist non è che Chiesa non lo può fare però Chiesa non puoi chiedere di tornarti a fare il terzino destro o il difensore centrale non glielo puoi chiedere ha maggior ragione contro il Napoli e la San Paolo ma non è un terzino non c'ha la geometria non c'ha le diagonali è un giocatore che pensa ragioni in avanti è un attaccante passa anche tanto da lì e quando dico che è una questione di atteggiamento e non di moduli e di come posizioni i calciatori ma questo che cazzo fai un 3-4-3 fai un 4-4-2 non lo so cioè se vuoi giocare con la difesa 3 Chiesa lo lasci davanti con dei Mariemilic però se me lo metti gli metti a fare il terzino e gli chiedi di contenere all'inizio del primo terzo ma io è un suicidio in partenza al di là che poi il Napoli te ne fa 5 è proprio sbagliata la concessione poteva fartene anche solo 2 ma continuava ad essere sbagliato ma poveraccio Chiesa ma poverino Kenny 4 perché passeggiava trottorellava per il campo a un certo punto ragazzi perdavamo 4-1 ma Kenny se l'è fatta tutta proprio perdavamo 4-1 forse eravamo già su 5-1 e vedo ma Kenny che saltella trottorellando in mezzo al campo ma ragazzi stiamo scherzando stiamo dicendo sul serio Locatelli 4-1 perché non è che siamo andati meglio di Kenny e poi lì c'è il discorso del gol che prendiamo sul palo anche quello in concentrazione attenzione io capisco che vogliamo fare il cambio però ragazzi allora non è che se non facciamo il cambio prendiamo gol di là di quello comunque Locatelli pochi palloni toccati anche qua come facciamo ragioniamo sull'azione del nostro gol poi lo faremo nel secondo video di giornata ragioniamo sul terzo perché c'è già uscita la live reaction e il gol lo facciamo perché Locatelli va a fare la sponda di Maria e iniziamo a mettere degli uomini in aria che prima non mettavamo sarà sempre un caso sarà sempre un caso ma tutte le volte che la Juve comunque si rende pericolosa o comunque segna effettivamente una rete è perché ci sono più uomini in aria rispetto al resto la partita poi sarà un caso sarà un caso però è sempre lì 5 Arrabio che è stato probabilmente il migliore dei centrocampisti anche qua si becca 5 perché non è che abbia convinto anzi anzi però a livello fisico ha cercato di arginare i giocatori del Napoli qualcosina fatto ma proprio qualcosina un paio di cavalcate è l'uoto ai 5 4 e mezzo Kostic perché veramente anche Kostic male ma peggio di chiesa Kostic poi è ovvio che Kostic non è un terstino se poi decidiamo addirittura vai così inventiamoci un'altra un'altra follia secondo me è stata passare la difesa 4 dopo che comunque tu con la difesa 3 in questa stagione avevi ritrovato un po' la tua compattezza passare la difesa 4 a fine primo tempo per mettere chiesa a sinistra quando tu chiesa a sinistra la puoi mettere tenendo la difesa 3 facendo il 3-4-3 come dicevo prima allora Kostic lo mettiamo a fare il terzino sinistro Alexandro fa il difensore centrale Danilo fa il terzino McKennie fa l'esterno siamo sempre lì che inventiamo vogliamo facciamo poi i risultati sono questi ma anche singolarmente Kostic becca 4 e mezzo ma non è un terzino non la sa fare la linea 4 lo mettiamo a fare il terzino sinistro a Napoli in una partita va bene se è mezzo di Maria che è stato probabilmente l'unico dal punto di vista offensivo a cercare di fare qualcosa ha fatto anche gol proprio perché comunque lo spirito lui ce l'ha messo e sono contento perché da Di Maria mi aspettavo questa risposta lo dicevo anche in una live ieri mi aspettavo veramente un Di Maria protagonista anche nei big match l'ha fatto peccato che il resto della Juve non sia andato proprio in quella direzione lì 5 Milik che è stato sommerso dai fischi del Maradona ed è l'unico motivo per cui mi ricordo Milik ieri sera perché poverino anche lui è stato completamente assorbito dai difensori avversari Paredes è entrato anche male proprio a livello di atteggiamento e molle nei contrasti e girava al culo quando lo puntavano poi quel pugno Osimen la reazione a Osimen ma Paredes continua a non convincere proprio dal punto di vista umano prima di tutto e poi anche da quello sportivo 5 a Moise Ken che poveraccio io Moise Ken a un certo punto l'ho guardato e ho pensato sei mio fratello perché perché io sono sempre stato scarso a giocare a pallone anche quando giocavo in categoria così ero il giocatore subentrante e tante volte ti mettevano su e ti dicevano vai a lottare fai la guerra prendi falli porta sulla squadra perché tecnicamente sono osceno e mi chiedevano di fare quello perché comunque il pallone lo so difendere e allora andavo lì lottavo c'è una scena in cui Ken e la bandierina stiamo perdendo 4 a 1 forse già 5 a 1 non mi ricordo e Ken va mette giusti i gamboni mette dietro la mano va a proteggere sto pallone contro 2-3 del Napoli ed è lì da solo ed è lì da solo che cerca di proteggere sto pallone poverino e gli altri dove sono boh chi lo sa che è un po' come aveva fatto Chiesa che a un certo punto inizia ad attaccare attacca attacca nel secondo tempo lì sulla sinistra contro 3 del Napoli 3-4 del Napoli pressa lotta e c'è solo Chiesa ma di là degli errori dell'allenatore che secondo me sono la base principale della nascita di questa sconfitta se poi non ci aiutiamo da squadra per quello che vi dico che abbiamo fatto dei passi indietro al di là del 5-1 del macro 5-1 del Napoli ci sono state secondo me delle cose molto preoccupanti dentro la partita questi giocatori che sono abbandonati loro stessi a lottare poi è ovvio che prende 5 che cosa fa? è un attaccante non gli arriva un pallone non tira in porta non c'è la possibilità di farglielo fare che cosa gli devi dare? però poi io li guardo questi giocatori vedo queste situazioni e penso oh ma quanto cazzo mi dispiace per loro? quanto mi dispiace vedere Chiesa che deve farsi tutta la fascia per andare a coprire sullo 0-0 quanto mi dispiace vedere Kostic che che ha messo terzio sinistro che non ha mai fatto in carriera deve arrenderci all'evidenza che lo saltano sempre perché non sa tenere la linea 4 quanto mi dispiace perché anche deve andare a lottare dalla bandierina quanto mi dispiace per Bremer che è stato un caposaldo della Juve fino adesso in questa stagione è una serata no magari dal punto di vista fisico magari dal punto di vista psicologico se la deve far tutta quanto mi dispiace per McKennie che deve farsi la fascia quando poveraccio è sovrappeso come me e ha una struttura fisica che non gli permette di fare quel ruolo invece lo deve fare deve anche coprire deve anche cercare di inseguire gli avversari ma cosa dobbiamo inventare nel calcio cosa dobbiamo inventare nel calcio cioè queste qua al di là della sconfitta sono domande che ti viene da fare perché dobbiamo snaturare i calciatori chiedergli di fare qualcosa di più complicato di più difficile ma poi senza una logica perché eri veramente a mettere a chiesa a fare quella roba lì una logica non ce l'aveva una logica non ce l'aveva o se ce l'aveva non l'ho compresa io magari può essere fatemelo sapere qui sotto nei commenti che siamo già a 25 minuti di video direi che per oggi basta così